buonasera a tutti i ragazzi da marzala e benvenuti a questa nuova rissa anche questa settimana abbiamo una nuova rissa di cui non sappiamo assolutamente nulla il disegno in fruttanto è fighissimo battaglie di tolbarad creature magiche stanno fuggendo da tolbarad gioca un servitore otterrai una magia dello stesso cor... no scusa ripaciamola... battaglia di tolbarad creature magiche stanno fuggendo da tolbarad gioca un servitore e otterrai una magia dello stesso costo in mana che potrai lanciare gratuitamente potrei farla anche come padre marone battaglie di tolbarad creature magiche stanno fuggendo basta giochiamo effettivamente ok lo stregunzio potrei giocare con lo stregunzio devo fare il mazzo ci facciamo mazzo ma facciamoci il mazzo bisogna di farci il mazzo e con quale faccio il mazzo voglio fare il mazzo con con il sacerdote voglio fare il mazzo con carte che abbiano grido di battaglia e bran non so perché ma penso che questo non no non sia il mazzo che voglio gridare battaglia no 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 è qualcosa di parecchio figo no non me va non me va beh no 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 torniamo dietro no che cacchio non modifica potrei fare anche la solita figata tipo di fare il mazzo che si comprende contemporaneamente a me si da solo no 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 allora facciamo mazzo schmazzo mazzo con che faccio il mazzo potrei fare il mazzo col potrei anche fare il mazzo a maicini ma no dai no 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 facciamo così dunque abbiamo detto che qui non ho visto che faccio per una magia dello stesso costo ok dello stesso costo ogni volta giriamo un servitore e ora giriamo tutti i servitori tutti i servitori che gridano battaglia del paladino vediamo eh chi grida battaglia no questa grida battaglia questa grida battaglia se capirai se capirai questa grida battaglia rigata raddoppio potrei fare il mazzo con i murloc ah mica no mica no mica no mica no non lo so per la grida battaglia sei stato il tuo ero vabbè no 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 voglio che venga completato automaticamente lo faccio lo faccio un'altra volta lo faccio studiare di ammarsare il primo finale di fantasia ma io in realtà sono molto stanco da dalla giornata lavorativa e quindi lo faccio tutto daje daje giochiamo col mazzo a caso daje total random ragazzi totally random come al solito se vinco con questo mazzo tutto il ricavato sarà devoluto in deficienza in deficienza a me adesso è il primo dei deficienti in ogni caso ok giochiamo contro chronos 34 addirittura contro chronos 34 non avrei mai immaginato che avrei giocato con chronos mamma mia mamma mia che carta mi hai messo marito madonna che cartacce di mer... di merla che mi hai messo mazzo adesso proprio è Polivar eh ci sciamesce Polivar Tomatrack Polivar Tomatrack i miei saluti eh saluto a te figliolo molto piacere devi piacere se ne occupa lo zio tunnel beh io direi di giocare immediatamente il segreto molto piacere molto piacere ti do un molto piacere ahah hai capito bello? ah devo giustamente giocare servitori altrimenti la magia non me la dà e al... ma che cacchio di servitori gioco qua mamma mia questo era l'altro di morte nooo mamma mia fammi pensare eh che vai a pensare cuore mio 4-3-tie che mi dai? oh più di attacco e carico servitore siiii te la rompo yeah boom non è fantastico tutto ciò? adesso si deve fare sei danni siiii siiii non me lo uccidere non me lo uccidere nooo drogno stupido dai io non me lo ucciso si me lo uccide no dai che non me lo uccide dai che non me lo uccide eccomi no mazz tre copie nel mazz ci piace parecchia eh ci è piaciuto tanta ci è piaciuto proprio tanta io ti faccio sei danni ti faccio sei danni e dopo aver fatto sei danni vedi qualcosa con me lo riprendo in my hand e faccio da 3 a 6 danni a a mister scalpiccio qui eeeh ho visto che bello il prossimo turno fa di nuovo tre mana con cui si genera un potentissimo esploratore scarlatto maledette mosche che ancora a novembre ci stanno non è incredibile tutto ciò mazzo incredibile anche da parte dell'avversario che desidera oh no questa è una mossa direi non scorretta scorretta di più di più di più di più di più scorretta quindi adesso sarò costretto a giocare un soldatino per non avere anche se la magia la vorrei la magia la vorrei si 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 la voglio la voglio dai voglio la magia su voglio un qualcosa di eh che te pareva vabbè strato verrà purificata sento il sapore del mana oh certo il sapore di sapore di mana sapore di mana mamma mia un fine stratega proprio eh mi sembra proprio un fine stratega vabbè vabbè non ti preoccupare che ci pensiamo noi state tranquilli che ci pensiamo noi allora ok adesso ci arriva tanto lui l'arma non se la mette e quindi mettiamo indiana jones qua che potrebbe essere comunque risolutivo no mettiamo indiana jones subito invece 3 dani tutti i servitori mette questa carta nel mazzo avversario non mi sembra troppo il caso effettivamente di fare il male ti sepolto tra un po' ho troppe carte in mano effettivamente eh la veggo buia come disse ombre a bocciagli scherzo ovviamente mi sta violentando con una feroce di quelle proprie attenzione perché questa è bella eh ah questa è bella perché più che altro ce la distrucco ah si guarda un po' eh 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 guarda un po' guarda un po' ciao ah maronna mi che bello eh e cambiamo qui anche questo troppo 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 grazie un peggio un danno pesco una carta certo e paesso paesso guarda bolivar bolivar che diventa sta diventando enorme attenzione signori sono tornato oh my lord malhorn ma che ci fa qui malhorn ciao sono malhorn ma mi sembra un po' scorretto come tipo di situazione guarda che roba eh ah dalla che roba ragazzi eh ah che situazione eh abbiamo una situazione abbastanza come dire di merda eh 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 e giocheremo questa no? eh 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 un po' di culo yeee eh 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 ma come se non bastasse come se non bastasse giustamente no? ci giochiamo questa beh in eff... vabbè non c'è problema perchè toh eh eh un po' di costa zero eh 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 se controllo un segreto uuuuh non te lo faccio proccare neanche se viene giù ok vabbè adesso basta parlare con un cretino ok si difende anche lui sono felicemente cinque danni e e Arbeshell va bene ma non c'è problema non c'è che Bolvar comincia a diventare gigantico come dire eh idea ok come ce lo proteggiamo questo Tizien? come ce lo proteggiamo questo Tizien? due diva in favor mi ci ha messo randomicamente e che cazzarola lina eh si è un po' che cazzarolina che è un 4-2 eh la voglia che giocassero c'è però 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 intanto va a 17 intanto perderne uno oppure potrei semplicemente infliggere tre danni e sgraffignare una carta oppure semplicemente farlo diventare abbastanza ignorantemente grosso abbraccia la luce abbraccia la luce abbraccia la luce è proprio grosso questa eh che fa? che fa? oh bello non hai capito mi sa te eh mi sa che non hai capito bello te eh qua le faccio quattro danni pesco uno poi spacco un servitore nemico eh come la vedi bello? come la vedi beautiful? pom 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 mamma mia come sei pericolosamente vicino alla sconfitta my friend eh 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 attenzione wow bella giocata ahahah 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 e di nuovo sorprende con un fantastico mazzo a caso riesce a vincere anche questa rissa e ottiene una bustina classica che ne andremo simpaticamente ad aprire come sempre non abbiamo disponibile oggi la nostra valletta ad aprire la bustina quindi la aprirò io è stata una fantastica rissa anche oggi corta ma bella direi perché e ci è piaciuta si quindi apriamo subito la busta per fare cosa oh 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 una semplice rara di merda anche per questa settimana è tutto grazie per essere stati con me nel caso in voi ci sareste nel caso voi ci sarete e un saluto dal vostro Marzala ciao